Bentornati a Salute Pubblica, il programma di approfondimento di Medical Excellence TV dedicato al rapporto tra la nostra salute, la salute di tutti e il territorio. Oggi ci occupiamo di amianto, abbiamo sentito tante volte questo slogan, possiamo essere liberi dall'amianto, ma ci chiediamo se in Sicilia l'obiettivo sia stato raggiunto anche in minima parte, pare invece che il focus sia proprio quello di accelerare i tempi per arrivare almeno ad un risultato apprezzabile e soprattutto oggi cerchiamo di capire cosa devono sapere i cittadini affinché possano comprendere quali siano i passaggi necessari per liberarsi definitivamente da questo materiale così tanto usato negli anni scorsi, ma che dal 92 è stato ritenuto assolutamente cancerogero, quindi pericoloso per la salute umana. Noi abbiamo oggi in studio e li ringraziamo per la loro disponibilità Tommaso Castronovo che è responsabile per i rifiuti ed economia circolare, per le gambiente Sicilia e l'onorevole Valentina Zaffarana del Movimento 5 Stelle, deputata regionale. Ora vediamo insieme il servizio. Nell'immaginario collettivo è ben radicata l'idea della pericolosità dell'amianto per la salute umana, sebbene la maggioranza dei cittadini non abbia ancora del tutto chiare le regole della bonifica dei siti pubblici e privati. L'amianto, Eternit dal nome dell'omonima azienda produttrice, è stato considerato un materiale multiuso e a basso costo per scopi industriali, edilizi e nella fabbricazione di prodotti di consumo, compresi quelli tessili. Ma che cos'è esattamente l'amianto? Si tratta di un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati e del gruppo dei filosilicati di consistenza fibrosa e dichiarati nel tempo cancerogeni. Il mesotelioma maligno è un tumore raro, una neoplasia che colpisce il mesotelio, il sottile tessuto che riveste la gran parte degli organi interni. Colpisce per lo più gli uomini ed è associato soprattutto all'esposizione all'amianto, in particolar modo a quello friabile, dunque agevolmente riducibile in polvere e in ultima analisi facilmente inalabile. La forma più frequente è quella che colpisce la pleura, il mesotelio che riveste i polmoni e la parete interna del torace. L'Eternit è stato bandito in Italia a partire dal 1992. Sui danni che provoca alla salute l'amianto tramite inalazione e su quanto può fare per la collettività e il servizio pubblico, ci chiarisce le idee Santo De Luca, direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASP di Catania. Esiste una legge regionale, la 10 del 2014, che regola alle norme per la tutela della salute del territorio dai rischi derivanti dall'amianto, ma che risulta ancora applicata solo in minima parte. Il problema dell'inalazione è legato chiaramente alla presenza di queste fibre che possono in una prima fase localizzarsi e depositarsi nelle parti alte dell'apparato respiratorio, mentre il problema della respirabilità è legato proprio al fatto che queste fibre devono avere delle peculiarità per quanto riguarda il rapporto tra lunghezza, tra spessore, entrano direttamente all'interno dell'alveolo dove poi attraverso meccanismi fotogenetici determinano l'innesco di attivazioni, diciamo così, infiammatorie fino a diventare poi ad alterazioni anche cromosomiche e determinare quello che nella situazione, diciamo, rispettura più grave porta al cosiddetto mesotelioma. La legge 10 impone, obbliga tutti i comuni a redigere il cosiddetto piano comunale amianto. Garantisce chiaramente una tutela di tutti i cittadini, sia per quanto riguarda gli aspetti non soltanto dei lavoratori, noi ci occupiamo di sicurezza, diciamo, dei lavoratori, ma chiaramente di tutti i cittadini attraverso una promozione chiaramente della salute mirata, diciamo, per tappe innanzitutto a una forma di censimento e di mappatura di tutti, diciamo così, i siti ancora residuali, non soltanto per quanto riguarda i capannoni, insomma, diciamo, in abbandono, diciamo, in completo stato, diciamo, fatiscente ormai vetusti dal tempo in cui maggiormente sono presenti queste fibre, diciamo, di amianto fiabile, ma soprattutto attraverso un, diciamo così, un'azione di rimazione, di bonifica anche, diciamo, nell'amianto di origine antropica, cioè quello buttato per le strade e quindi, diciamo, è un'attività complessa anche in alcuni comuni, diciamo, molte volte hanno disatteso fino adesso, diciamo, gli obblighi che la legge prevedeva di, diciamo, completare questo censimento, questa mappatura entro 24 mesi e chiaramente procede ad una rimozione, quantomeno, diciamo, di amianto di tipo friabile e indotteremo dalla, come dire, dalla nascita di questa legge che chiaramente, come ripetiamo, è del 2014. Quello che mi risulta, soltanto pochi comuni, ma qua, diciamo, non ricordo, ma non per fare il nome, non è completata, soprattutto anche nella provincia di Catania, i 58 comuni che riferiscono all'area metropolitana di Catania, soltanto pochi hanno comunicato e attuato il piano comunale. Ma questo avviene perché comunque c'è una situazione anche, diciamo così, onerosa e di scarsa comunicazione che si è fatta di questa legge 10 del 2014. Si è parlato del, come dire, dell'ufficio regionale, della protezione civile, c'è un ufficio amianto, c'è una collaborazione anche per quanto riguarda, come dire, la collaborazione con l'ARPA che chiaramente deve, diciamo, anche monitorare le situazioni anche ambientali perché non si parla in questo caso di monitoraggio o di bonifica dei siti in cui c'è un'attività lavorativa. Ma qua il discorso è sistemico, ma credo, a mio parere, che sussissano intanto una scarsa, come dire, professionalità degli aspetti tecnici che devono servire a censire e monitorare la presenza dei siti in fase di abbandono, un monitoraggio che ha dei bioneri e non sempre c'è stato questo, come dire, trasbordo di comunicazione, questa comunicazione a carico del cittadino che chiaramente si trova in difficoltà attraverso la compilazione della modulistica che è annoverata inclusa nella legge 10 e quindi anche nel piano comunale amianto. Difficoltà anche a volte ci sono nella rimozione di una vasca di Ethernet o di alcune, diciamo così, coperture in amianto con oneri che ancora, a mio parere, non si è capito come si deve procedere con il rimborso a carico di un utente, di un avventore, di un cittadino che chiaramente deve procedere secondo i canoni e tutti gli obblighi, diciamo, della normativa a rimuovere e conferire in discarica la, diciamo così, l'ondulina in viplocimento o in amianto o ancora più, diciamo, anche situazioni in cui è presente l'amianto friabile, in discarica pagando un'impresa. Quindi c'è, a mio parere, un difetto di comunicazione. Un obiettivo è quello della mappatura dei siti che ospitano amianto che in Sicilia sembra lungi dall'essere realizzato. Il piano regionale amianto, approdato alla regione siciliana solo nel 2021 con un ritardo di 30 anni, dovrebbe intensificare la lotta contro lo smaltimento irregolare e bonificare moltissime aree della Sicilia. Ogni ente locale potrà valersi del lavoro svolto dalla regione, che mapperà anche tramite foto satellitari, la presenza di potenziali manufatti in amianto, anche per evitarne la rimozione in maniera arbitraria, un rischio per la salute e per le salatissime multe. Ma secondo l'Egambiente Sicilia il piano rischia di essere del tutto inefficace, mancando di concretezza. Sino alla primavera del 2021 solo 101 comuni siciliani avevano presentato un piano comunale di questi. Solo una trentina erano stati redatti secondo i criteri previsti. Solo 13.252 edifici residenziali e 632 scuole pubbliche erano state censite con presenza di cemento amianto. Sono state rimosse solo 22.000 tonnellate di cemento amianto. Eppure sempre secondo l'Egambiente si stima che in Sicilia ci siano oltre un milione di metri cubi di materiali contenenti amianto. E procedendo agli attuali ritmi di smaltimento e bonifica ci vorranno 50 anni per rimuovere tutto l'amianto presente. E per chi ha lavorato a contatto con l'amianto, subendo pesanti conseguenze sulla salute, è ancora difficile avere giustizia. Bene, abbiamo cercato di fare un sunto. Non era semplice parlare di amianto in Sicilia, significa parlare di tantissimi aspetti. La prima domanda la vorrei fare proprio al dottor Tommaso Castronovo, che lo ricordiamo è responsabile del settore rifiuti ed economia circolare di Lega Ambiente Sicilia. Ecco, abbiamo compreso, almeno da quello, anche da quello che ci ha detto il dottor Santo De Luca, che è il direttore del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro a Catania, che non è semplice in questo momento per i comuni adempiere a quelli che sono i doveri di mappatura rispetto alle discariche più o meno improvvisate, che purtroppo continuano a comparire nelle nostre città. E neanche per il cittadino è semplice liberarsi da vecchi manufatti che magari sostano ancora nei condomini, nonostante il 92 sia una data davvero lontana. Ecco, abbiamo capito che la Sicilia ha finalmente un piano regionale amianto, però i numeri sono abbastanza crudeli direi, pare che sostanzialmente soltanto, da un'ultima ricognizione, soltanto 120 su 391 comuni ci hanno provato. Ecco, questi numeri, in sintesi, cos'è che non va, secondo la vostra esperienza? Ma non va, dando un saluto a tutti i telespettatori e anche l'avvocato e deputato a Zafferano, credo che non va semplicemente il fatto che non è una priorità per questo governo regionale, non lo è stato neanche per i governi regionali passati, contrastare la diffusione e soprattutto gli interventi, favorire gli interventi di rimozione e smaltimento bonifica dei siti contaminati da amianto. Questo chiaramente ha una ripercussione non indifferente sulla salute dei cittadini e sull'ambiente circostante, proprio perché appunto, come avete segnalato nel vostro servizio, ci sono poi dei metodi molto sbrigativi e incivili da parte di soggetti, sia cittadini ma molto spesso anche delle ditte, che provvedono a smaltire l'amianto nel modo peggiore possibile che possa essere fatto, cioè quello di abbandonarlo illegalmente, illegitamente nei terreni agricoli o a bordi delle strade non sorvegliate. Insomma, una totale inciviltà ma soprattutto un totale pericolo per la salute delle persone perché appunto quelli sono i manufatti che sono più pericolosi per i cittadini perché una volta che sono lì sono lasciati agli agenti atmosferici molto spesso sono rotti, sfibrati e questo appunto fa sì che si liberano le fibre da amianto che sono quelle più pericolose perché può essere facilmente inanate da chi passa negli intorni o da chi sta nelle circostanze. Quindi è stato fatto veramente molto poco. I dati che sono stati da voi indicati, che noi appunto abbiamo ripreso più volte nei nostri dossier, con la nostra campagna libera dall'amianto, dimostrano appunto la totale mancanza di volontà di affrontare questo problema con serietà, programmazione e pianificazione. Lo abbiamo ripreso anche nelle osservazioni che abbiamo fatto al piano regionale dell'amianto a cui abbiamo segnalato tutta una serie di carenze, sia di carenze di pianificazione, carenze di programmazione, carenze di interventi previsti. Faccio riferimento alla legge regionale 10 del 2014, erano previsti 42 milioni di euro stanziati in quella legge per interventi volti a incentivare i comuni per rimuovere l'amianto, per realizzare un impianto di trasformazione e inertizzazione dei manfatti in cemento amianto. Di quei 42 milioni di euro che erano stati stanziati nel 2014 sono stati spesi siano 200 mila euro a favore appunto degli interventi per smaltire l'amianto. Oltre i 14 milioni, vabbè, poi quella è un'altra storia dei 14 milioni che sono stati stanziati per l'intervento a Biancavilla, però fondamentalmente per quei piccoli interventi che poi sono quelli più diffusi, quelli più presenti nei comuni siciliani è stato fatto volto. I comuni non si sono adeguati. La interrompo per chiederle una cosa, lei ha parlato giustamente del caso Biancavilla, ci vorrebbe una puntata intera solo per raccontare il passato di quel comune rispetto a questo che poi si è trasformato purtroppo in un dramma con delle vittime. La domanda che le voglio fare subito, se magari ci risponde brevemente, quali sono le aree problematiche in Sicilia che sono rimaste ancora scoperte, diciamo che sono ancora sotto scacco dell'amianto? A parte tutti i siti industriali in cui si è fatto abbondantemente l'utilizzo di amianto, da Gela a Milazzo a Siracusa, Priolo, insomma questi sono i siti maggiormente colpiti e da mettere assolutamente in sicurezza. Ma poi in realtà l'amianto è diffuso un po' dappertutto, dalle stesse indagini o ipotesi che fa il Dipartimento della Protezione Civile, l'ufficio amianto, anche nel ripreso nel piano regionale amianto, si stima che l'80% degli edifici residenziali, che tra l'altro sono stati costruiti tra il 60 e il 90, che sono la maggior parte degli edifici residenziali presenti in Sicilia, sono quelli che contengono ancora cemento amianto, dagli edifici pubblici agli edifici privati, quindi insomma non possiamo fare una particolare distinzione, anche i dati che vengono ogni tanto rilevati dall'ufficio amianto tramite appunto le schede di autonotivico, le segnalazioni delle aziende che rilevano i dati provincia per provincia, non sono particolarmente né significativi né omogeni, perché appunto neanche questi sono forniti con estrema chiarezza e poi manca del tutto, come dire, i dati anteriori al 2013, quanto è stato fatto dal 92 al 2013 in termini di bonifica, di smaltimento, di emozione, non c'è dato sapere, tra l'altro delle osservazioni che abbiamo rilevato anche noi nel piano regionale amianto, senza un quadro chiaro evidente di qual è lo stato dell'arte, è difficile anche, come dire, programmare degli interventi ad hoc per… Certamente, certamente dottor Castronuovo, questo, quella dei dati e quindi anche della storicizzazione del problema è un elemento che colpisce in effetti in questa ricerca di verità e di soluzioni del amianto. Io volevo chiedere all'onorevole Zaffarana, che tra l'altro nei giorni scorsi, lo ricordiamo, si è svolta in commissione monitoraggio leggi all'Ars, un'audizione che è stata chiesta appunto da lei onorevole e in seguito alle numerose segnalazioni che il Movimento 5 Stelle ha ricevuto rispetto a questa gestione lenta dell'amianto in Sicilia. Ora, questo incontro ha visto la partecipazione di dipartimenti regionali, componenti anche nelle operazioni di bonifica. Ci racconta come è andata molto in sintesi e soprattutto adesso che si fa? Cioè una volta che vi siete incontrati, che cosa succede? Sì, grazie innanzitutto, saluto chi ci segue. Chiaramente ho avuto tutta una serie di segnalazioni da parte dei cittadini, chiaramente preoccupati per la lentezza comunque della rimozione dell'amianto, così come questa viene percepita anche dalla popolazione. E allora mi sono fatta promotrice di questa richiesta di audizione in commissione, proprio questa commissione che abbiamo voluto proprio per il monitoraggio dell'applicazione delle leggi e dei provvedimenti regionali, invitando chiaramente gli attori che sono stati protagonisti dal 2014, anno della promulgazione della legge fino ad oggi. Il quadro emerso non è stato per niente consolante, io l'ho definito un anno zero, probabilmente si potrebbe dire un anno uno, dal momento che finalmente abbiamo il piano. Mi rendo conto che la materia chiaramente è importante e le azioni di mappatura, di censimento e anche le azioni sanitarie sono complesse. Però è anche vero e va detto che se inizialmente la legge prevedeva un ufficio molto corposo, anche nella presenza delle sue unità, ad oggi sembrerebbe, a quanto anche dichiarato in commissione, ridotto a poche unità. Quindi pertanto mi chiedo come poi un piano regionale che ha chiaramente degli obiettivi, che sono quelli della definitiva rimozione e smaltimento dell'amianto sul territorio regionale, con quale unità e con quale coordinamento possa essere questo svolto. Al momento sappiamo appunto che vi è un interim a reggere l'ufficio, che nella legge aveva l'ambiziosa proposizione di coordinare tutte le azioni tra l'energia e rifiuti, il dipartimento di energia e rifiuti, tra l'assessorato territorio e ambiente, il dipartimento della protezione civile, il dipartimento dell'osservatorio epidemiologico rispetto appunto alla osservazione appunto della distribuzione della malattia, perché parliamoci chiaramente, è un problema oltre che ambientale e sanitario e dal 92 ad oggi credo che passi avanti importanti non ne siano stati fatti e questo processo chiaramente deve essere portato avanti con forza perché è un'urgenza. Dottor Castronuovo, volevo prima di chiudere farle una domanda, cosa deve fare un cittadino di fronte a tutte queste difficoltà? Mettiamo che dei cittadini decidano di smaltire dell'amianto che da tanto tempo sosta in garage, in terrazzi, in altre aree delle proprie abitazioni, sostanzialmente oggi, cosa si deve fare in Sicilia? Tanto deve procedere con la scheda di autonotifica prevista dalla normativa e che adesso è anche vigente e congente, nel senso che sono previste le sanzioni se non vengono denunciate, denunciati appunto la presenza di malattie di cementamianto nelle proprie residenze, nei propri locali e poi rivolgersi a delle ditte attualizzate. Purtroppo anche qui c'è un problema non indifferente che sono dovuto ai costi di smaltimento di queste tipologie di manufatti, sono ancora troppo alti perché appunto non sono presenti le scariche autorizzate, bisogna trasferirli fuori in regione e tutto ciò ha dei costi notevoli che si scaricano sui cittadini. Noi più volte abbiamo chiesto di adottare delle linee guide per delle procedure semplificate per la rimozione di smaltimento di manufatti di ambientamianto, consentendo anche ai cittadini di poter smaltire in estrema sicurezza con tutti i kit di sicurezza così come ormai è diffuso in alcuni comuni del Veneto dove ci sono delle direttive abbastanza precise. Anche questo era un provvedimento che era previsto che entro tre mesi, se non ricordo male, dall'adozione del piano regionale amianto fosse adottato, le linee guida appunto fossero adottate dall'assessorato, però appunto non si fa, per cui in questo momento non ci sono, per cui in questo momento l'unica cosa che consiglio suggerisco chiaramente ai cittadini è quello di fare appunto le schede notifiche e di rivolgersi alle ditte autorizzate, perché appunto inviti comuni, così come alcune esperienze si sono fatte in Sicilia, quello di farsi carico, di coordinare queste attività attraverso dei bandi pubblici in cui appunto si incaricano i cittadini delle ditte autorizzate a fare la rimozione dei manufatti in gerente ambiento e in questo caso abbattendo i costi, nella fattispecie configurando i cosiddetti gruppi di acquisto così come abbiamo proposto e provato a fare noi qualche anno fa. Alcuni comuni che hanno fatto sono stati particolarmente efficaci e hanno, come dire, recato dei vantaggi non indifferenti ai propri cittadini. Invitiamo a copiare le buone pratiche che sono state già fatte. Grazie, io prima di lasciarla le volevo solo chiedere una cosa velocissima, quindi solo poche battute per sapere, ma è vero che conviene rivolgersi, sfruttare l'eco bonus in questo momento storico, il patrimonio edilizio si potrebbe avvantaggiare rispetto allo smaltimento dell'amianto? Sì, sono previsti appunto che gli interventi di rimozione dello smaltimento amianto rientrano tra i vantaggi fiscali previsti dall'eco bonus, super bonus, sisma bonus, tutti gli interventi volti appunto alla riqualificazione dell'edilizia energetica prevedono anche interventi di rimozione sia in manufatti che in altre modalità, perché appunto poi l'amianto è presente in diversi modi nei nostri appartamenti o nei nostri locali, per cui insomma è assolutamente possibile farlo. Per questo occorre appunto assoluta capacità di analisi e di valutazione dell'intervento da fare. In questo caso appunto anche noi ci siamo, abbiamo sollecitato più volte che ci fosse una concertazione con gli ordini professionali, perché appunto è con gli ordini anche datoriali e imprenditoriali, in modo tale che tutta questa partita fosse fatta per un'estrema sicurezza. Rischiamo appunto che molti interventi di riqualificazione indirizio, non siamo fatti con questa misura di cautela. Grazie dottor Castronovo, lo ripetiamo, lei è responsabile rifiuti ed economia circolare di Legambiente Sicilia, la salutiamo ma vogliamo ultimare il nostro ragionamento con l'onorevole Valentina Zaffarana, alla quale a questo punto vorremmo chiedere questo, sono sufficienti secondo lei i 10 milioni previsti e non spesi sostanzialmente della legge regionale 10 per chiudere questa situazione, per poterla sanare se non del tutto in maniera considerevole? Ma chiaramente questi 10 milioni c'è da aprire un ragionamento, nel senso che è comunque dalle relazioni relative agli anni 16, 17 e 18 che sono appunto le uniche attualmente disponibili, si vede che sostanzialmente questa copertura poi nel tempo non è più stata resa disponibile per appunto questa spesa, anche perché appunto l'individuazione del impianto di smaltimento è ancora lettera morta, non abbiamo effettivamente una individuazione chiara neanche all'interno del piano. Detto ciò però è importante secondo me collocarsi anche nell'ambito nazionale più diciamo a tutto tondo perché sono previste per la Sicilia ben 107 milioni proprio per lo smaltimento di amianto e per la bonifica e soprattutto per per scuole e ospedali perché noi purtroppo dobbiamo rilevare il fatto che è presente appunto amianto non soltanto su edifici privati, non soltanto su strutture industriali e di vario tipo ma anche su scuole e ospedali che ritengo debbano avere la priorità. Chiaramente nelle mie intenzioni è quello di andare avanti, c'è quella di andare avanti rispetto appunto all'approfondimento della gestione di queste risorse come la Sicilia le sta recependo perché che appunto fu un'iniziativa del Ministro Costa nel 2018 che appunto valutando l'emergenza amianto in tutto il territorio nazionale ha appostato delle risorse. La Sicilia ha avuto la maggior parte e questo è il momento chiaramente di renderle efficaci sul tutto il territorio regionale. Bene, un'ultima domanda, una curiosità politica ma questi temi in questi anni a Lars sono temi che in qualche modo incontrano l'interesse dei deputati? È una domanda trasversale ovviamente indipendentemente dalla loro appartità oppure siamo ancora al di là dell'autocoscienza ambientale se possiamo chiamarla così. Ma direi che questo tema è stato molto vivace nella scorsa legislatura, tant'è appunto che si è promulgata la legge 10 del 2014 con importantissimo ritardo dal 1992 ed è nei fatti. Personalmente ecco io ho la fortuna chiaramente attraverso il contatto anche stretto con i cittadini di avere le emergenze anche da parte delle persone comunicate e mi sento anche facendo parte poi della mia forza politica che è una forza politica che si fonda molto chiaramente sull'ambientalismo e la protezione dell'ambiente e della salute o personalmente e anche politicamente questa sensibilità. Devo dire che però ecco di amianto in questa legislatura non si è parlato molto ma non è che se ne deve parlare delle cose, bisogna farle le cose e allora ritengo che costruire diciamo un percorso che sia finanziato, sostenuto economicamente da appostamenti e seri progetti per la rimozione, allora questa è veramente una politica che si occupa dei problemi delle persone. Come diceva Pocanzi e chi mi ha preceduto, soltanto 200 mila euro sono state praticamente gli interventi dal 2014 a oggi su alcuni interventi puntuali a livello regionale, poi chiaramente ci sono gli interventi privati, ora c'è la possibilità, cosa buona questa per i privati comunque che fanno l'autonotifica di poter avere fino a 5 mila euro a contributo o perduto per la rimozione, però ritengo che tanto altro debba ancora seguire. È un'azione coordinata soprattutto a livello politico nella direzione della definitiva liberazione dell'amianto della nostra Sicilia. Bene onorevole, noi la ringraziamo, ringraziamo anche lei, ricordiamo che Valentina Zaffarana è deputata regionale del Movimento 5 Stelle, quindi liberi dall'amianto rimane un gran punto interrogativo, noi sicuramente torneremo ad occuparci nelle prossime puntate di questo tema, speriamo anche di avere dei dati nuovi perché la pandemia ha un po' diciamo rallentato anche i dossier, la ricerca rispetto ai numeri che però sono importanti per analizzare i fatti e per capire un po' meglio le informazioni. Ci vediamo alla prossima puntata di Salute Pubblica. Al prossima puntata di Salute Pubblica Al prossima puntata di Salute Pubblica